I familiari di Lino e la Cagnina hanno presentato un esposto dopo la morte del giornalista Nisseno richiedendo la cartella clinica all'ospedale Sant'Elia per accertare le cause del decesso. Intanto ieri si sono svolti i funerali in cattedrale davanti una folla gremita, tra cui diversi rappresentanti dell'istituzione per commemorare il giornalista che da ben 50 anni era la firma del giornale La Sicilia. Durante l'omelia Monsignor Canalella ha ripercorso la vita lavorativa di Lino e la Cagnina, molto apprezzato in città per il suo garbo e la sua professionalità. Una scombarsa quella di Lino e la Cagnina che ha colpito la città anche perché è avvenuta nello stesso giorno della scombarsa di Pippo Grosso.